Buonasera a tutti, oggi la liturgia ci ha presentato un personaggio meraviglioso, Maria di Magdala, e adesso ascoltiamo il Vangelo un secondino con l'aggiunta del versetto iniziale del capitolo 20 di Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si ricolva al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro, e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dai piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, Donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro, e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò, e gli disse in ebraico, Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada nei fratelli di loro, salvo il Padre mio e il Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore, e ciò che le aveva detto. Piccolissime cose, perché il personaggio è troppo complicato, è troppo profondo, è troppo. Maria di Magdala è un personaggio bellissimo, è interessante anche che cosa si è dovuto costruire sopra queste tradizioni per, in qualche modo, dare seguito alla profondità che in questo Vangelo è incredibile, se ci pensiamo bene. Però piccolissime cose. La prima è questo andare al sepolcro di mattina presto, quando era ancora buio. davvero chiediamo il coraggio di questo attraversare le tenebre. Secondo, avere il coraggio anche di piangere, è una delle cose più belle del mondo, piangere. Non ce ne dobbiamo vergognare mai, perché esprime davvero la profondità dei nostri sentimenti, che non ti mostriamo mai abbastanza. Terzo, questo incredibile suono. Il tuo nome pronunciato dalla persona che tu pensavi morta, con la voce della persona che tu pensavi fosse morta, Maria. Con tutto il carico che è il chiamare una persona che ami con il nome suo proprio, quel nome con cui l'hai sempre chiamata, Maria. E questo è interessantissimo. Credo che dovremmo un po' sforzarci delle volte a chiamare le persone con questa intensità, con il loro nome, per dire quello che proviamo per loro. Altra cosa, non mi trattenere, detto da Gesù. Segna il legame profondo che c'è tra Gesù e questa donna. Non mi soffermo, però appunto deve essere una cosa incredibile se Gesù ritarda la salita al Padre, l'obiettivo di tutta la sua vita, per passare a salutare questa donna. Si può dire che dopo Gesù va via, si può dire che Gesù le fa fare un passaggio, non lo so. So che mi sembra che per Maria sarà il nutrimento per tutta la sua esistenza. Sapere che c'è questo legame, che non è negato, che c'è, che viene speso, che viene portato proprio agli occhi, davanti a loro due. Non mi trattenere, però va. Poi certamente si possono dire tante cose, anche però che nella Chiesa Gesù poi in qualche modo sparisce, se non per ritornare, per riconfermare in qualche modo questo incontro, nelle altre due visioni. Però appunto non è soltanto un passaggio, è un deposito che viene consegnato nelle mani di Maria. Chiediamo che questo deposito di amore che il Signore ci lascia davvero sia sempre presente nella nostra esistenza e che noi ascoltiamo questo nome pronunciato in nostro nome con l'intensità d'amore che il Signore ha lasciato a questa donna, sicuramente una donna bellissima. Buonanotte. Buonanotte.